Partiti, signori! Partiti! Boh, io sono vivo, è impressionante la cosa. Hai ricostituto te la casa? No, aveva i muri quasi rotti, li ho riparati. Come hai fatto? Sono un cazzo. Minchia la clava! L'astardo! Dai, aiutami un po'! Cosa dobbiamo fare? Uccidiamo questa così, facciamo... Ah no, il 28 questo. Quello lì nel lago. Uccidiamo qui. Questa? Sì. Carbonemis? Il livello dovrebbe essere al 16. Sì. Sì. Adormentare? Io lo vedo da fermo. Sì, ha laggato un po' tipo... Mh 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 mh. Minchia è troppo impossibile, usci da questi cosi... Chi crede? C'è una montagna sulla... Ahia! Ok, io me ne devo andare. No, io sono due! Vabbè, io provo a uccidere quello al 16. Io sono morto, devo andare in casa! No, non andare in casa, la rompo. Come la rompono? La rompe. Ah, Dio! La prendo alineata. Muoio, lo muoio! Scappano alla foresta, non in casa. Ma mi stai seguendo? Come faccio? Butto giù la casa, tanto se dentro. Veramente, è così scarsa la casa? Ma, minchia, è una casa di taccio. Di paglia. Una casa di pagliacci, eh. Bene. Adesso che sono morto, mi vado d'avventurare. Oh, mio Dio, c'è un osso rotto. Ecco perché non posso correre. E quindi, come faccio con l'osso rotto? Come io? Non lo so. Però... Sta seguendo me adesso. Ah, cos'è? Sai, cos'è? Lei è mollato a me. Certo. Ho detto, oh, vai a seguire quell'altro che è più buono. Aspetta, lì li faccio il bait. Lo porto nel lago, poi scappo via. Mamma mia. Eh, questo è... Professional. Oh, mi sono riparato l'osso. Forte sono. Come hai fatto? Hai mangiato? No, ho mangiato un cazzo. Sei riparato da solo. Ah, bello. Invece muoio. Sono Wolverine, ce l'ho lì per cura. Ma ha smesso di... Oh. Mi sta facendo i cazzi suoni. Ma non mi vedo, però, vabbè. So, so già che i miei capelli sono abbiati come... Come dei biatti cazzi. Allora. What the fuck? Oh, mio Dio, sono velocissimo. Oh no, non è vero. Era una bossa. Non ho capito cosa è successo. Non mi ha dato pelle quel dinos. Tanto carne, però. Mi ha dato 6 carni e la... La cheratina. Quella di osso. Che sfiga. Con cosa l'hai preso? Con l'accetta? Eh, con l'ascia che dovrebbe darti più pelle che carne. Si, vedrai che lui... Io sì, ma secondo me l'hanno cambiato. Io ho fiavo la casetta. Attentissimo. Bisogna uccidere a cercare un parasauro. Uccide i cerbiatti. Ma dove sei andato te? Sono andato in giro... A cercare... Un po' di bacche. Ah, t'ho visto. Però c'ho freddo. Ma hai paura? No, ma secondo me non fa niente. Chi non fa niente? Il freddo. Il freddo così non fa così. Chissà cosa fa? Eh, ti fa scendere il cibo. Ti fa scendere il cibo? Sì. Che merdo. Quando andavo sulle montagne, che c'era proprio il gelo, ti scendeva subito il cibo. Qual è il progetto di vita adesso? Il progetto di vita? Sarebbe carino fare il letto, visto che continuavo a morire. Ma l'altra volta, ieri, ieri c'erano. Ieri gli erbi c'erano. Gli erbi c'erano. Gli erbi c'erano. Gli erbi c'erano. C'è una fortezza enorme lì. Questo qui? Così, va? Ci ha messo anche tutte le spine intorno. Cazzo è il re? Eh, sta come un boss. Cancello di pietra. Vai, guarda che ce l'avevamo quasi anche noi, queste cose. Adesso. Noi avremo la zatta, la zatta, la grattata. Così, c'è una cassaforte. Ah, ma queste spine sono di metallo. Vuol dire che è di livello altissimo questo qua. C'è una cassaforte enorme. Da, tra l'altro, vuota. Apribile e vuota. Ma da casa nostra? Dalla fortezza, ci sono mille cassaforti. Io non ti vedo. Di volte ci sono. Sono vicino alla fortezza. Non c'è un cazzo dentro. 150 slot hanno queste cose. C'è città dentro una casa. Bel casino. Non so come farlo al letto. La zatta la che arrivano si sblocca, tu lo sai? Bisogna guardare sul wiki. E se tambo mi si impalla il computer. Questa è una cassaforte. Fa vedere... Se riesco a vedere... Però, hai visto che se fai shift tab in game, ci sono le guide a destra? Shift tab? Shift tab, che è lo steam in game. Ah, sì. Ci sono guide disponibili 6. Non so cosa c'è, però magari c'è anche le wiki. Si riesce ad aprire mentre si gioca. C'era a livello troppo e bassa la zatta, secondo me. Secondo me no. Adesso guardo. 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 Ho lasciato la porta aperta. Eh sì, perché mi stava inseguendo il coso. Il carbonino. Mi sono detto, vabbè, ti ho aperto la porta e ho detto, vai dentro. E sono scappato. Eh sì, bravo, per uscire ci sono bussato dentro la casa. No, non sono intanto. Ho aperto la porta e tu mi hai detto, porco Dio, non entrare. E con gli animali, dai, non sono entrato. Però non lo, non sto sento a richiuderla. Comunque sei un pagliascio. Guarda, che le zatta sono di legno. Legno di livello basso. Mmm. Mi dici? Sì. Eh sì, si sbloccheranno per i tutt'ora. Intorno a livello 30, però, secondo me. 25, 30. Comunque, cioè, non è detto che è una cosa di legno la sblocchi quando c'è il legno, eh, magari la sblocchi anche dopo. No, no, sarà una delle ultime cose di legno. Che figo. C'è una casa sulla cascata bellissima. Pronto. Ah, c'è un problema. C'è un problema. Io ho visto una casa fichissima sulla cascata. Eh, però vicino a casa nostra c'è un raptor di quelli con l'aura rossa. Sì, è vicino a casa nostra. Non è tanto vicino a casa nostra. Sì, è dall'altra parte del torrente. Sono quelli che è come se fossero di livello 100, tipo. Se ci tocca siamo morti. Quindi se sei dall'altra parte del fiume scappa. No, io sono dalla parte nostra del fiume. Ok. Ok. È lì che sta correndo abbastanza veloce. Ci faccio passare qua in mezzo, amore? Oh, lì. Ci faccio. Oh, mio Dio. Sembra cattivissimo quello. Ah, ma lo stai vedendo? Sì. E' quello che una volta avevamo incontrato nella nostra casa e ci ha ucciso due dinosauri da solo. Grossi. Così. E se è riuscito a ucciderlo con l'anchilosauro. Però, tipo, l'ha ucciso e mi aveva dato tre livelli di expo per gli oggetti. Porca Eva. E' vero a livello 40. E' un boss. Eh, sono i dinosauri quelli che non si possono tra l'altro catturare. Magari. L'altro guarda come corri incazzato. Mica, è incazzatissimo. È incazzato. È incazzato il primo che si trova davanti, lo fa esplodere. Però lui non abbia ucciso il dilophosano. Perché si è sbattato dal dilophosano. Vole uscidere noi. Il suo più grande obiettivo siamo noi. E basta che lo attacchi casa. Attenzione, signori. Livello 6. Dove stai? Eh? Dove stai? Che non ti vedo. Non lo so, mi son perso. No, sono sopra di te. Sono da casa nostra. Andiamo a cercare della pelle. Per il lettino. Andiamo a cercare della pelle. Andiamo a cercare della pelle, sì. Ma io adesso non sento la musica in game neanche tu, no? No, non c'è un cazzo adesso in game. Però quella musica è lì, non riesco a togliere la testa. Mi rimane in testa per cinque giorni. Trovo bello. Beh, è fiora la musica in game. Ma se non è alla ricerca di pelle? Dove ci sia un dinosauro? Che non c'è mai. C'è un cazzo. C'è un cazzo di niente qua in giro. A parte fortezze di persone che potrebbero uscireci da un momento all'altro. Oh. Minchia, c'è un 12 fps. Anche bene? Sì. Quella l'ha. Eccolo lì. Il tricelato qua. Vediamo che livello ha. Sei impazzito? Ci distorge anche a livello 1 un tricelato qua. 44. Lascia stare. L'ultimo tricelato che abbiamo provato a uccidere c'è tipo one shotato. E eravamo anche di livello più alto. Molto più alto. Cattinci. Ti dinci. Oh sì. Boh, disboschiamo qua. Non bisogna andare dai dodo per la pelle. Scusa, quanta pelle ti manca? Non può mancare. Non è vero. Non è vero. E ho gli stessi che avevo prima. Perché li ho raccolti dal mio corpo morto. Minchia, luce nella foresta è bellissima. Da qua. Vieni qua. Non c'è più la pelle. Porco, devi fare tutta la pelle. No, mi dice, ho un EVE 17 e non lo trovo nell'inventare. Ah no, sì. Ne ho 17 e ne mancano 7. 8. Ah, minchia, la luce è questa qua azzurra. Minchia, è bellissima. Lo trovo dentro. C'è un parasauro. Allora va bene. Sì, se riusciamo a rincorrerlo. Lo facciamo incastrare. Laggiù c'è un altro. C'è una roccia qua. Provo a mandarlo contro la roccia. 112! Ci mettiamo 3 ore a uccidere sto parasauro. Ah, ma sei lì? Provo a incrociarlo. Segui mi si è incastato nell'albero. Si è incastato nell'albero. Easy. Sì, ho buttato giù l'albero, però. Porco, Dios. No, si incastra in un altro. No, non è vero. Dai, vieni qua. Sì, merda. Tanto va a finire sulle spine, se continuiamo. Ci sono sicuramente. Spine. Guarda, ce l'ho già girato. Non c'ho più energia. Non ci sono spinne nessuna parte qua in giro. C'è un tricciolato per incontenso. Non ce la facciamo. Si è rigenerato, vieni. Ah, guardia, vaffanculo. Guarda te. Perché i parasauri sono dei pezzi di inverno, vieni. Eh, bisogna usare i bug delle pareti. Bisogna usare dei cani, vieni. I cani bastardi. È bello però sto posto. Mi piacerebbe costruire qua. Non ci c'è una casa qua, ma se non t'hai nell'acqua qua. Eh no, no, infatti. C'è un problema nell'albero. Guarda questo, Tom. Vieni a vedere. Mi vedi? No. È lo stesso di prima? No. Il gorilla. Qua. Ah, il gorilla. Minchia, il gorilla ci tira un puno e ci uscite. Guarda che bella. Che cazzo mi sta uccidendo? Mi sta attaccando? Porco Dio, i compi. Compi. Sono due compi innamorati. Aiuto. Starano che il gorilla non ci abbia caricato di violenza. Dove essere bene vivo. Vabbè. Normale. Aiutami con sti compiti il cazzo. Eh, ce ne ho due addosso. Hai due addosso anche te? Hai scappato. Mi uccidono. Mi uccidono. Non ti vedo. Arrivi. No, sono scappati poi adesso. Ah, ce li ho io. Ok. Buono. Come fai te a prenderli? Non ci riesco. Cazzo a dire più uno. Cazzo, stanno livellando nel combattimento. No. Ma non mi dà pelle. Non danno pelle questi. Ma non mi dà pelle. Non mi dà pelle. Non mi dà pelle. Mi sta dando un cazzo. Sto prendendo picconate. Non mi dà niente. Di gioccarne. Comunque il gorilla è fatto benissimo. Sì. Si veniva tutto al pelo. Non muore mai. Non muore tale. Vabbè. Ok. Fai un culo. Mi provo di nuovo a questo parasola qua. 20 alberi magari. Si incastra. Ancora un minuto di registrazione. Merda. Ti ho perso comunque. Sto lottando con un parasauro immortale. Incastrata? Sei arrivato il messaggio? No. Sono ucciso. Sì, è che siamo troppo lontani. Siamo troppo lontani. Non chiascio. Ora, da che parte sei? Se sei tornato più o meno indietro o tornò più indietro? Io sto tornando indietro verso il caso. Sì, è bello che è l'alberi di là. Ah, ma l'ho visto. Adesso voglio controllare cosa succede. No, questo si ferma. Ah, comunque mi ha dato 18 pelli. Il para. Ma, probabilmente avrà tutto sfocato. Ah, merda. What a scaper! Devo imparare come registrare bene il video a fuoco. C'è, con il fuoco dinamico che cambia. Dove cazzo stai? Sì, in merda. Faccio così. Ah, quello sta... Continuo a registrare, easy. Easy! Easy! Sei a casa? Mica, a casa è lontanissimo. Siamo lontani da casa, oh... Lontani da casa... Magliacce di Quasar... 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 Pazzito! Che palla, c'ho freddo! Poi non è vero. Non mi dà... Non mi dà la neve. Che bello questo tramonto. Con i grilli. Monti rinassano. Ma quello laggiù è un altro raptor. Un raptor pazza? Un re dei raptor? No, no, non è normale. Un dodo! Venga, pagliaccio. Ah, beh. Solo carne, ma dot. Ho ucciso col piccone, ho sbagliato. Se ne ho... Se ne ho... Sei carni. Il fuoco è acceso a te? Hm. Allora, adesso arrivo. Provo a uccidere questo parasauro. Provo a mandarlo contro la roccia. Ma... Mica... Vabbè, ma da ora sono stronzi. Decidono di andare dove cazzo gli pare. Non hanno una direzione. Non è andato via verso... Verso dove lo stavo picchiando. È andato via a casa dall'altra parte. Uh, cane giorgi. Gli strip. Ti ha marcito una cane là dentro. L'ho buttata via. Stavo dove... Stavo dove... Stavo dove creare i... I paletti di fuoco. Davvero un po' di luce. Standing torch. Minchia, sei... Sei EP costa. Sei EP. Se non altro, non costa un cazzo farle. C'è un zero flinchi. Minchia, se vuoi, ne ho 20. Torno a tre minuti, raga. Vado a fare un altro spuntino. Ho sbagliato, ho creato tre torci, ho creato. Però laura del raptor senza spegnere la torcia. Aspetta che sono un coglione in merda. Marco Dio, lo stand in torch. Ho creato la torcia invece... È troppo cattivo, guarda. Guarda, c'è il fuoco in tuo... Hai visto? È bello. Potentissimo. Per consiglio. Ci distrugge la vita, vabbè. Allora. Mi sa che mi manca flint. Per il flint è il piccone che devo usare, no? Sì. Bella. Ahia, c'è uno canciato ha scritto Perché mi avete rotto, distrutto la casa e rubato tutto. Perché sono stronzo. Carca via. Dobbiamo costruirci la casa dentro una caverna, meglio. Dentro la lava. Dentro la lava, dentro la sua la casa. Mica, questa roccia è infinita. Mica. 12 finitori. Spettacolo. Sta volando ancora una roccia che è spaccata in cielo. Quella la sua, o Raptor? Ah, tu a sinistra. Cosa? Eh, qua dietro c'è un Raptor. Non ne voglio sapere. Non voglio sapere niente di Raptor. Mi vado a mettere un po' di torcia vicino a casa. Hai acceso due fuochi? Eh, sì, non si vede. Ho fatto la torcia apposta, addio panino. Sei un bagliaccio. Sei un bagliaccio. Un bagliaccio. Un bagliaccio. Doro poppiti. Cosa? Blià. mamma che capolavori capolavori dell'ingegneria wooden foundation puoi già fare la wooden? la posso già imparare stai guardando se vedo negli ingrandi la figura della zattera anche io ci stavo provando prima ma non l'ho vista ma siccome è a livello troppo alto a livello 10 c'è una seggiola tipo la seggiola? mi sembra una seggiola nella quinta fila c'è tipo una seggiola in mezzo prima della pentola interessante cazzo ci facciamo della seggiola? non so però la facciamo ridere la seggiola della risata ah si l'ho trovata la zatter che livello è? e non dici a livello dice ai punti richiesti che cazzo dici? vabbè ah no a livello 15 15? bomba bomba di brutto ma la zattera come si fa a muovere però? è quella senza la vela quella sarà? c'ha la vela nel disegno no allora basta finita ma comunque dalle figure ci sono un sacco di oggetti nuovi ci sono le trappole le ghigliottine si vuole molto pesante allora c'è un'astronave però lontana io ho lui ma la fede cos'hai vinto un'altra rankad? no ma di prima si poi? e basta poi ho vinto un'altra si con malza capisco se c'è dodo meh 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 no quattro hide signori ma dove sei? verso l'astronave? si stanno andando verso l'astronave ma mi sa che è chiusa da un muro e poi è troppo troppo lontana sono più vicino ma non è vicino per un cazzo quattro hide ci bastano? per cosa? per il letto l'ho già fatto hai già fatto il letto? eh avevo ucciso il parasauro ah non è a posto non mica me l'hai detto sei di meh e quando eri lontana che non ti è arrivata l'esperienza sei di meh da meh 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 saltello della potenza meh 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 Mi regali con i 4 titan e mi regali con più Tutto, compreso le 4 titan Non c'erano mai soldi per comprare 4 titan Mi devo già comprare la caccia cvive Questa era 1000€ La caccia 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 vive Colta Tu tu tu... Tu 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 tu... Tu 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 reinforcing No прок Almenobach uomini Me neccan Swedish Quella Run Be Century il ratto con la torcia è potentissimo mica la luna che cazzo è? potentissimo più grande è di casa mia bene ci sta di solito è più piccola riempiamo quattro tira di harddisk ma quel router se ne andrà prima o poi o cheatstalkerà per il resto della sua vita finchè non moriremo entrambi il letto l'hai messo dentro? si, l'hai messo dentro ora che hai della gente da casa con 70 oh no che cazzo fa quel router? è suo? no si ma siamo in pvpe a sto qua livello a 50 e ce ne abbiamo da braccia non mi sembra ostile oh 0 0 Oh si è la water skin Porco dio È l'alpha Aiuto mi sta uccidendo Ci sta aiutando No è l'alpha normale Rio mi ha ucciso Rio È stato lui Il tipo di livello 50 mi ha ucciso Davvero? Si È un ralpha normale L'ha ucciso lui No Mi ha ucciso per sbaglio Ti ha scritto sorry Sorry Io non lo vedo scritto tra l'altro Come faccio adesso? Ah rispavano l'oved in 20 secondi Che merda C'è il letto però Easy Si c'è il letto si Ma Non c'è anche un po' da avere quella roba Guarda E' messa dalla porta Allora 100 cadavere Si ripompone tra 13 minuti Dove riprenderti la roba 13 minuti hai Perché non posso risponare dal letto? No No Sleeping bang? Ah è l'altro il letto Hai fatto sleeping bang? Eh non ce l'ho Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo No aspetta 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 a respawnare E' il tipo Mi ha regalato un simple bang Porco dio Sono già respawnato Lo metto ora in casa Messo E cosa serve allora lo sleeping bang? Non mi ricordo Sono completamente perso Oh no sono incumbered Ho un raptor Peggio di un raptor Ho due dinosauri potentissimi Che stanno picchiando Oh mio dio un t-rex Un t-rex? Non lo so Cioè è tipo un carnotauro Super saian Che sta uscendo uno stegosauro Sì? Come faccio? Tanto gli devo passare davanti Praticamente Per arrivare Dalla base Sono spawnato lontanissimo Proprio a passare Nella foresta oscura Ma la mia roba c'è Se non te l'ho rubata il tipo Sì ma non ne dubito Visto che ci ha regalato Un botto di roba Magari non ce n'è niente Di che aveva bisogno No i compi no Cosa Scusa Cosa può avere bisogno A livello 50 Da noi Infatti Per quello sto dicendo Che sicuramente Erano presonieri Finché girare così al buio È una cosa terrificante Non vale che sta uscendo il sole Eh ci ha regalato delle torce Ah sto vicino Sto vicino Eh? Ora si viene da una parte Ah tu le interccele Se le mettiamo una Io mi metto in casa e stacco eh Te lo dico Sì? Mi sono scaricata Mi sono scaricata la macchina Posso registrare Ah l'ho razzato anch'io Tupito Che pallio Sono ucciso per sbaglio Da un tipo Ma tipo Con un shoot up È scirpito con un piccone E sono morti Istantaneamente E Stardone La mia roba dove sta? Dalla porta Ma dentro? Ma no, è qua il mio cadavere Ah, c'ho tutto Take all from the vent Ah, c'è un disco Posto, signore, post Andiamo in casa E hai messo Cooking pot Ci ho regalato il T Oh, esci fuori, ti ho ancora una zattera Dove? Guarda Che figata Quella la scelta è fuoco bene È velocissima Sto anche cucinando mentre vado È velocissimo Madonna che figata Mi ha costruito un grattacielo Una zattera grattacielo Mi ha costruito per forza Però se ti si decompone mentre sei in mare Muori Come si decompone? Si rompe mentre sei in mare Magari sei slogato Ma non si rompe con l'uncio Vabbè Adio Lu Oddio Mi mettono a dormire nel letto Sì, è l'arangio